Ciao a tutti, oggi parliamo di Tortuga Gourmet, un gioco di Red Glove dai 7 anni in su, dalla durata di 20 minuti, adatto da 2 a 5 giocatori. Ma vediamo ora cosa contiene la confezione. La confezione contiene il regolamento che ci spiegherà come giocare, contiene 5 carte bandiera pirata che saranno indicatori del nostro personaggio, contiene le carte della ricetta che sono 6 carte a ricette piratesche con delle ricette come vedete sul fronte e sul retro che saranno degli obiettivi che dovremo perseguire, 5 mazzi cassa vuota da 3 carte, quindi sono un 1, un 2, un 3 per ogni mazzo che andranno dati a ogni giocatore all'inizio della partita e 84 carte ingrediente, come potete vedere ogni carta contiene un ingrediente e un numero rappresentato. Ci sono poi anche delle carte particolari come questa che andremo a vederle durante il gioco. Ma adesso guardiamo come si gioca. La prima cosa che dovrete fare per preparare una partita Tortuga Gourmet è dividere le carte ingredienti dalle carte bandiera, dalle carte mazzo base e dalle carte ricette, le riconoscete perché hanno tutto il retro fatto così. Le carte ingredienti andranno poi divise in 12 mazzetti da 7 carte ciascuno. A questo punto distribuite ogni giocatore un mazzo di carte base, quindi 3 carte, un forziere vuoto da 1, da 2 e da 3. Una carta bandiera che sarà il nostro segnalino all'interno del gioco e casualmente una carta ricetta che saranno le ricette che dovrà comporre il giocatore per vincere la partita. C'è un fronte e un retro, quindi attenzione che il cibo per pesci per esempio darà meno un punto. Quando tutti avranno la loro dotazione di base si deciderà casualmente dove si inizia a giocare e tutti i giocatori piazzeranno il loro segnalino giocatore sull'isola di riferimento. Queste le chiameremo d'ora in poi isole. Pronti per iniziare la partita ogni giocatore avrà in mano i suoi 3 forzieri con i 3 punti movimento che saranno vuoti. La sua carta ingredienti del ricettario che servirà per capire quali ingredienti ci servono per comporre i nostri piatti e quindi fare punti e dovrà decidere come giocare. Praticamente ognuna di queste carte come vedete ha un numero raffigurato che ci dirà di quanti punti movimento mi posso spostare in senso orario o in senso anti-orario a mia scelta. In questo caso io vedo che nella mia ricetta mi serve il pesce. Avendo il forziere da 1 lo scarto lo metto nella mia dispensa e vado a muovermi di 1 per prendermi il pesce. Il pesce che ho preso verrà aggiunto alla mia mano. Come vedete il pesce oltre a essere un ingrediente avrà il numero 1 quindi mi darà un punto movimento quando vorrò giocarlo. Tutte le carte giocate andranno messe nella dispensa. La nostra dispensa sarà l'accumulo di ingredienti che avremo a fine partita per provare a completare più ricette possibili del nostro ricettario. Ricordatevi che la dispensa potete consultarla quando volete per vedere gli ingredienti che avete accumulato e che la partita finisce nel caso di 2 o 3 giocatori quando finisce uno dei 12 mazzetti nel caso di 4 o 5 giocatori quando finiscono due di questi 12 mazzetti. Ci sono delle carte speciali in questo gioco. Adesso ve le presento. Le carte speciali che potrete trovare sono per esempio il doblone che a fine partita vi darà un punto ma che ovviamente non conta come un ingrediente questo qua che è la carta ingrediente segreto la carta ingrediente segreto funzionerà come un jolly cioè potrete usarla per sostituire un qualunque ingrediente in una qualunque ricetta ma ricordatevi che se a fine partita vi rimane spaiata anche lei varrà meno un punto. Ci sarà la carta isola solitaria e la carta isola affollata. Queste due carte serviranno per potervi muovere verso un'isola di destinazione a vostra scelta in questo caso sarà solitaria quindi dove non è presente un altro giocatore in questo caso l'isola dovrà essere affollata quella verso cui vi muoverete quindi dovrà esserci almeno un altro giocatore su quell'isola a questo punto voi potrete direzionarvi verso quell'isola non varrà ovviamente né come ingrediente né vi darà punti a fine partita. In questo caso stiamo facendo una partita tra i giocatori il giocatore verde ha appena esaurito l'ultimo mazzetto e quindi la partita si conclude rimango con delle carte in mano che andranno aggiunte alle carte della dispensa quindi quelle che mi restano in mano saranno da aggiungere alla mia dispensa andrò a prendere la mia dispensa andranno rimosse le carte forziere base perché ovviamente non contengono ingredienti andranno rimosse le carte isola segreta perché ovviamente non mi danno punteggio e dopodiché con le carte restanti andrò a conteggiare i punti abbiamo detto che avevo queste ricette da fare dovrò cercare di comporre più possibili ricette da 6 da 3 punti per poi vedere con quello che mi resta se riuscirò ancora a farci delle polpette o se sarà cibo per pesce andrà meno uno i dobloni li terrò da parte perché ovviamente mi daranno più un punto alla fine della partita andrò a vedere quanti punti ho fatto sulla base delle mie carte ricetta come vedete ho fatto una volta la ricetta da 6 punti quindi avrò 6 punti 2 volte la ricetta da 3 punti quindi 3, 3, 6 punti che andranno a sommarsi i miei primi 6 e faranno 12 13 per il doblone a 13 punti vado a prendere ulteriori 2 punti perché sono riuscita a fare le polpette con due di carne e uno ingrediente segreto che come abbiamo detto vale come jolly quindi vado a 15 punti però poi ho un pesce spaiato che mi fa tornare a 14 punti quindi questo sarà il mio punteggio finale ovviamente chi fa più punti vince ci sono proposte anche due varianti per giocare per complicare il gioco quando poi sarete pratici che è quella pirati smemorati che prevede di non guardare mai nella dispensa quindi dovrete ricordarvi tutto quello che avete accumulato e il pressure test che permette di decidere quanti mazzi andranno finiti prima che termini la partita ciao 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 ciao